Da diversi anni al liceo Malpighi di Bologna, di via Sant'Isaia, si svolge un percorso legato alla comunicazione, un percorso che interessa una classe in particolare, la terza L del liceo linguistico, e il percorso si configura come un vero e proprio laboratorio, due ore alla settimana per tutto l'anno, con tanto di voti, la materia è curricolare, ma la cosa più importante è che gli studenti, attraverso questo laboratorio di comunicazione, imparano ad avvicinarsi con prove e pratiche ai principali strumenti, ci si avvicina al giornale, si conoscono i segreti dei titoli e degli articoli, si impara a scrivere. Altri strumenti che il laboratorio prende in esame e sui quali coinvolge la partecipazione dei ragazzi sono la radio, anche con visite sul campo alla storia della radio, il museo in particolare, ma anche a Radio Nettuno dove la classe è stata in visita. Poi naturalmente la televisione, la televisione è la parte conclusiva del nostro anno di laboratorio, si conclude con un telegiornale che viene poi montato e proposto, lasciato alla scuola come documentazione attraverso un DVD, da non dimenticare infine che quest'anno, grazie anche alla collaborazione del settimanale diocesano Bologna 7, la classe ha prodotto due giornali utilizzando i merabò del settimanale diocesano.